Quindi nella lezione di oggi toccheremo due argomenti, uno un po' a se stante che è quello delle eccezioni ma che ci permetterà di risolvere due problemi che abbiamo lasciato in sospeso fin dalla prima settimana di corso e poi inizieremo a vedere delle strutture dati nuove, finora come strutture dati abbiamo visto le strighe e le liste e partiremo da una più semplice che è quella degli insiemi per poi vedere la settimana prossima i dizionari e poi le strutture dati più complesse e articolate, fatte dalla combinazione di quelle che già conosciamo Partiamo dalle eccezioni, di cosa stiamo parlando? All'interno di un programma, quando il programma è in esecuzione, quindi non stiamo parlando degli errori di scrittura, del codice, degli errori di sintassi Ma quando il programma è già in esecuzione, possono capitare degli errori, gli errori che noi conosciamo bene, nel senso che se noi prendiamo una stringa che contiene un, due, tre abc e cercassi di convertire questa stringa in intero, mi viene generato un errore, un value error che già ben conosciamo, per questo lo accennavo già nella prima settimana del corso che mi dice guarda che questa stringa, un, due, tre abc, non è convertibile in base a 10 perché contiene dei caratteri che non sono validi e noi ci siamo sempre dovuti finora, e vi ho detto aspettiamo, rassegniamoci al fatto che questo errore qui mi interrompe il programma Impareremo più avanti, e più avanti è oggi, come gestire questo tipo di errori Così come l'apertura di un file, qui sto ad esempio usando la funzione open per aprire un file in lettura, oppure per aprire un file in scrittura Allora, cosa capita se la funzione open cerca di aprire un file che non esiste? Noi questo non l'abbiamo considerato, però se io provassi a fare un open di un file che si chiamerà, non so, non esiste, .txt Ne esiste, .txt In modalità lettura Ecco, questa operazione di open non può andare a buon fine, semplicemente perché questo file non esiste nella mia cartella di progetto E in effetti se provassi a farlo, troverai un errore di tipo file not found error Non such file directory non esiste, .txt File not found error Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono alcune operazioni che non possono essere completate correttamente O per ragioni interne, quindi all'interno di una variabile aveva un valore non lecito e quindi non poteva essere convertito in intero Oppure per ragioni esterne, cioè il programma è corretto, funziona, ma semplicemente questo file non esiste E allora, in entrambi questi casi, cosa succede? Che Python interrompe l'esecuzione del programma Segnalando un errore Un errore che è composto essenzialmente da un codice di errore, in questo caso si chiama file not found error Nell'altro caso si chiama value error E poi un messaggio esplicativo Va bene, che ci dice Perché E ci dice anche dove In questo caso scrive sempre la linea numero 1 Perché in realtà siamo in modalità interattiva Se fossimo dentro il programma mi direbbe esattamente il numero di linea e il file in cui si è verificato il problema Quindi questo è il comportamento Che troviamo Quando il programma Trova una situazione in cui non può proseguire E quindi genera questi cosiddetti eccezioni o errori Che normalmente causano l'interruzione del programma Allora, ciò che impariamo oggi è imparare a gestire queste eccezioni Cioè fare in modo che quando capita un value error perché ho provato a convertire un numero Oppure quando capita un file not found error perché ho cercato di aprire un file che non esiste Anziché interrompere il programma di brutto Io possa gestire questo errore Ad esempio nel caso dell'input Possa chiedere all'utente di provare a reinserire il numero Perché così come l'ha inserito non è valido Quindi noi possiamo intercettare in qualche modo l'errore E gestire questo errore Con del nostro prodice, con del nostro programma Quindi tutto il meccanismo di gestione degli errori In realtà è composto da due grossi filoni Da due parti Quella che ci interessa di più è quella parte di destra Cioè gestire gli errori che si verificano Quindi noi chiamiamo una funzione Che può essere la funzione int o che può essere la funzione open Questa funzione normalmente mi dà un risultato Ma può capitare che mi dia un errore Un'eccezione, una condizione eccezionale Ok? Allora in questo caso noi possiamo specificare Una porzione di codice che useremo per gestire quell'errore Quindi abbiamo un nuovo tipo di blocco Che si chiama blocco try-except Che è una sorta di if Un po' particolare Che è mirato specificatamente alla gestione delle condizioni anomale Delle eccezioni o errori che si vogliono E impareremo a usare questo L'app colonna di sinistra Invece è relativa Alla parte del linguaggio Che ci serve per Comunicare Che si è verificata un'eccezione Quindi immaginiamo di scrivere la nostra funzione In questa funzione facciamo certe elaborazioni Ma poi ci accorgiamo che magari I dati che abbiamo Che non so Immaginate Una funzione in cui devo calcolare l'area di un triangolo Mi passano i tre lati Io applico uno dei teoremi sui triangoli Per calcolare l'area data a lunghezza dei tre lati Ma mi accorgo Che Ad esempio La somma di due lati è Maggiore del terzo lato E quindi il triangolo non esiste Allora cosa faccio io dentro una funzione Quando capita questo? Una funzione non può Restituire nessun valore Sensato Al suo chiamante Perché i dati che ha ricevuto Non sono coerenti Allora in questo caso La funzione potrebbe essere stessa Anziché restituire un dato a caso Un dato sbagliato Un dato nullo Oppure fare un'operazione molto brutale Tipo exit dal programma Ah no non posso fare Interrompo il programma E così comporta come le funzioni di libreria Cioè segnala la condizione Attraverso una eccezione E quindi esiste un'altra istruzione Che si chiama raise Che è quella che possiamo usare Per dire Normalmente vi è usato all'interno di una funzione Dire che all'interno di questa funzione Si è verificato un errore L'errore che dovrà Eventualmente essere gestito Dal chiamante della funzione Cioè se è il chiamante Che mi ha passato Quei tre dati sbagliati E quindi io posso L'unica cosa che posso fare È dire No guarda Non posso proseguire C'è un errore Il chiamante Eventualmente Gestirà L'errore Qui da un lato Gli errori vengono rilevati Cioè mi accorgo Che qualcosa non funziona E lo segnalo Attraverso raise Dall'altra parte Invece Raccolgo Ci interessa soprattutto La parte di destra Dicevo Quindi quella di gestire Gli errori causati Nella maggior parte dei casi Dalle funzioni di libreria Quindi daremo Più attenzione a questa parte Mentre sulla parte Di sollevare le eccezioni Questo termine un po' strano Di python Sollevare un'eccezione Cioè generare un'eccezione Cioè segnalare Che esiste un errore E si fa come situazione raise Ma come dicevo Non gli daremo Non dedicheremo Troppo tempo Le eccezioni Sono di vario tipo Noi abbiamo già visto Una value error Che può essere un tipo Un'eccezione generata Ad esempio Da una funzione Di conversione di tipo Quindi Int Oppure float Ad esempio Può esserci Un index error L'abbiamo già visti Quando cerco di accedere Al di fuori di una lista Può essere Una Questo non l'abbiamo ancora visto Perché non l'abbiamo ancora visto I dizionari Quindi lasciamo perdere La penultima riga Final found error E l'abbiamo visto Nell'esempio adesso Quando cerchiamo di aprire Un file che non esiste O non si trova Nella cartella In cui pensavamo Si trovasse Cosa di questo genere Poi ci sono Divisioni per zero Eccetera eccetera Quindi Dell'eccezione Quello che mi interessa È il tipo di eccezione Che sono tutti nomi Di tipo Qualcosa error Error di questo Error di quello Error di quell'altro E poi c'è un messaggio Esplicativo Che Però Non qualifica Il tipo di eccezione Di value error Ce ne sono di tanti tipi Ogni volta mi dirà La funzione Che ha dato il problema E La stringa Che non si poteva convertire Ma L'importante È capire Che sono tutte Eccezioni Di tipo value error E quindi la funzione Int Può a volte Restituire Il valore Numerico Oppure può Sollevare un'eccezione Di tipo Value error Cosa fa Python Quando un programma Incontra un'eccezione O questa eccezione Viene gestita Oppure Il programma termina Noi finora Abbiamo sempre visto Il secondo comportamento Il programma termina Però Quando ci sono Delle eccezioni O degli errori Di che possiamo Prevedere Possiamo prevedere Che possono capitare Allora sarebbe Facile O possibile Gestirle In modo che il programma Non venga a terminare Ma venga gestito Ci sono alcuni errori Che sono Facili da rilevare E facili da recuperare Quindi Recuperare Significa Se l'utente Ha inserito un dato sbagliato Glielo Faccio reinserire Una seconda volta Ad esempio Anziché interrompere il programma Perché lui dopo che ha inserito 99 dati Inserisci centesimo Fa un errore E deve ricominciare da capo No Gli chiedo Di reinserire quel dato Ad esempio E in altri casi Invece ci sono errori Non recuperabili Nel senso che Appunto Se il file non esiste Non esiste Non è che ci posso fare nulla Non posso inventarlo E quindi in quel caso Terminiamo il programma Il gestire Le eccezioni Come dicevo Avviene attraverso Quest'istruzione Try Except Che è un'istruzione Con due blocchi C'è un blocco Try E un blocco Except Il blocco Try contiene All'interno del blocco Try Inseriamo le istruzioni Che potrebbero causare Un'eccezione Quindi Se devo fare Chiamare la funzione Int Per convertire Un dato che ho ricevuto Dall'utente Non scriverò Semplicemente Int Ma metterò Questa funzione Int All'interno Di un blocco Try Due punti E poi scrivo L'istruzione Tutte le istruzioni Che stanno Sotto il blocco Try Vengono in qualche modo Monitorate Nel caso in cui Dovessero generare Qualche eccezione Se si generasse Un'eccezione Allora Vengono eseguite Le istruzioni Che stanno Nel blocco Except Che è inserito Subito dopo E il blocco Except Contiene Le istruzioni Appunto Per gestire Il tipo di errore Che è stato Rilevato L'istruzione Except Accetta A fianco Il nome Il nome Dell'errore Quindi se io Sto facendo Una Open Probabilmente Sarà il Final found error Che mi interessa Oppure Se sto facendo Una hint È il value error Che mi interessa Andare a catturare Cioè questo Mi serve per evitare Di gestire in un modo Un errore Che è di un altro tipo Però cerchiamo di arrivare subito Magari Come prima cosa A un esempio Facciamo un esempio Facciamo un esempio Prima facile Pensando A una lettura Dati Un programma In cui Vogliamo leggere Dei dati E mettere in una lista Di questo genere Quindi io voglio Leggere Dei valori Ed inserirli In una lista Dei valori Interi Ok E inserirli in una lista Cosa che abbiamo fatto 12 milioni di volte Però vogliamo farlo Proteggendoci anche Dagli errori di inserimento Quindi quello che Potevamo fare Valori uguale Una lista vuota E dopodiché Avrò un ciclo In cui leggo Dei dati E poi li converto Eccetera eccetera Quindi avrò Il dato Uguale Input Inserisci il dato Poi A while Dato Diverso Da Stringa vuota Quindi lasciamo che Usiamo come valore Sentinella Il fatto che Utente inserisce invio A vuoto Quindi non inserisce Nessun dato nuovo Cosa dovrò fare Dovrò fare Un valori Punto add Di int Di dato Dato viene letto Come stringa Lo voglio convertire In intero E non è add Ma è append Scusatemi Aggiungo in una lista Il valore intero Corrispondente al dato E poi alla fine Se vogliamo Facciamo una print Di questi valori E vediamo Che cosa salta fuori E questo funziona Normalmente Se io inserisco Dei dati Tre Ops Scusate Funzionerebbe Se io ripetessi La input sotto Ovviamente Altrimenti Rimango all'infinito Ok Quindi Tre Cinque Sette Poi batto invio E lui mi stampa Che ho inserito I valori Tre Cinque Sette E fin qua Tutto bene Il problema Quando inserisco Tre Cinque E poi mi scappa La tastiera Mi scappa dietro Sulla tastiera Dopo che ho inserito Una lunga lista Di numeri E ne inserisco Uno sbagliato Il programma Si blocca Come abbiamo già visto Fare molte volte E non mi permette Di andare avanti Con l'elaborazione Allora Noi cosa vogliamo fare Vogliamo riconoscere Il fatto Che questa funzione Inti di dato Può generare un errore Noi sappiamo Che può generare un errore Di tipo value error E quindi Vogliamo gestire Questo errore Direttamente noi Da programma Dicendo all'utente Vabbè senti Se si è verificato un errore Poco male Ripetilo Questo come lo possiamo fare Allora Innanzitutto magari Per chiarezza Separiamo Questo dato Chiamiamo una variabile D uguale Inti di dato E poi appende D Così abbiamo Isolato La funzione vera e propria Noi sappiamo Che in queste tre istruzioni Si può verificare un errore Allora noi possiamo Proteggere queste tre istruzioni Inserendola all'interno Di un blocco try Dicendo Senti Proviamo a fare questo E se non blocco Come si è detto La parola chiave try Viene eseguita dal due punti E le istruzioni successive E le istruzioni successive Vengono rientrate Proviamo a fare Queste istruzioni Se non si genera Nessuna eccezione Nessun errore Il programma prosegue normalmente Ma se si genera qualche eccezione Io ho la possibilità Di inserire Uno o più blocchi Di tipo accept Per dire che cosa fare Nel caso in cui si verifica un errore E che errore? Beh nel nostro caso Sono errori tipo Value error Allora qui ho un altro blocco In cui arrivo qui Se una delle istruzioni Del blocco precedente Ha generato Un'eccezione Di tipo value error E ovviamente È solamente l'istruzione Della riga 8 Che lo può fare Quindi in questo caso Questa int Che se riceve una stringa Non valida Mi bloccherebbe il programma Anziché bloccare il programma Va a saltare Alla riga 12 Qui non viene Nel momento in cui viene Catturata l'eccezione Alla riga 8 Non vengono più eseguite Le righe 9 o 10 Ma salto direttamente Alla riga 12 13 Dove che cosa potrò fare? Ebbene potrò dire all'utente Che il valore Allora il valore Il valore Dato Non è Un numero Correttamente formattato Riprova E A questo punto Farò di nuovo Una input Del nuovo dato Reinserisci il dato Quindi che cosa può capitare? Che se l'utente Inserisce dei dati corretti Vengono eseguite queste Tre istruzioni Normalmente Il blocco except Non viene mai visitato E il ciclo while Funziona esattamente come prima Se invece Inserisco una stringa Allora l'esecuzione del programma Passerà a queste due istruzioni Quindi praticamente verrà tentata L'istruzione 8 Fallisce E allora eseguiamo l'istruzione 14 e 15 Dopodiché Dopo l'istruzione 15 Sono sempre dentro un ciclo while E quindi riprenderò Dall'iterazione successiva Del ciclo while Quindi proviamo a vederlo Se inserisco dei dati 3, 4, 5 Funziona come prima Se inserisco un dato non valido RR Ho messo Quando batto invio Lui mi dirà Il valore RR Non è un numero correttamente formatato Riprova Reinserisci il dato Quindi sono fermo alla riga 15 Questa volta lo inserisco Correttamente Posso inserire un altro Un 6 E va avanti A questo punto Il ciclo continua Cosa ho fatto? Ho preso il dato reinserito L'ho convertito in intero Questa volta ha funzionato E l'ho aggiunto alla lista Se io facessi anche errori ripetuti Lo ripetessi più volte La cosa funziona lo stesso Perché io ogni volta Reinserisco il dato qua Torna su Al ciclo while Prova di nuovo a fare int Però questo int fallisce di nuovo Ma essendo in un blocco try Arriverò di nuovo a queste istruzioni Quindi io separo Di fatto due flussi Di esecuzione del programma Il flusso normale In cui tutto va bene Dal flusso anomalo In cui si è verificata Un'eccezione di un qualche tipo Che io ho previsto E sto cercando In qualche modo Di recuperare Questo ha il vantaggio Che io non devo impazzire A capire La stringa dato Inserita dall'utente Se è effettivamente un numero Ricordate che ci avevamo provato Un po' all'inizio del corso Con isNumeric Ma poi isNumeric non funzionava Perché se il numero è negativo Cosa succede? Se il numero è un floating point Allora dovevamo considerare anche La virgola decimale La notazione esponenziale Eccetera Era complicatissimo Ci siamo accorti Che era un problema molto complicato E qua lo bypassiamo completamente Noi diciamo Secondo me Questa stringa è valida Proviamo a usarla Come se fosse valida Se poi non fosse valida Ho un piano B In cui vado a seguire del codice Per recuperare Cosa succede Nel caso in cui il dato non sia valido E quindi posso avere Dei costrutti di questo genere Quindi quando Il metodo Diciamo così Più corretto Di validare dei dati È proprio questo È quello di dire Proviamo a leggerlo Come se non ci fossero errori E se poi ci sono degli errori Li gestiamo a parte Anziché avere troppi if Uno dietro l'altro Cosa ci metto dentro il try Beh A rigore Io so che l'unica istruzione Che può generare l'accezione Sarebbe questa Quindi uno potrebbe dire Ma scusa Ma allora queste due istruzioni Le potresti mettere fuori No? Perché non le ho messe qua sotto Queste due istruzioni? Adesso Metto posto l'indentazione Io ho una istruzione try Leggi il dato Prova a convertirlo Poi In ogni caso La pen funziona sempre Non genera mai errori L'input non genera mai errori Quindi può andare avanti così È chiaro che se metto l'input qua sotto Non lo metto più qua dentro Ma questo è un dettaglio Perché non lo faccio così? Perché se lo facessi così Anche nel caso in cui Il dato fosse non valido E quindi generasse un'eccezione Stamperei sì Il messaggio di errore Ma poi alla riga Che in questo caso È la riga 15 Cercherei di usare comunque Il valore di D Per aggiungerlo Al vettore valori Alla mia lista dei valori Ecco Questo valore di D Però non è detto che esista Perché magari L'int ha dato un errore Oppure Se l'int non ha Correttamente letto un dato Il valore di D Rimane uguale Al valore del dato precedente Quindi il problema È che io qua Aggiungerei un dato Anche quando il dato Non ce l'ho Perché aveva generato errore Quindi questo Se vogliamo Il motivo per dire Questa istruzione Non deve essere eseguita Se la int fallisce E allora Il modo più semplice È quello di metterla Direttamente dentro Il blocco try Per cui se si verifica Un errore Alla riga 8 Il resto del blocco try In particolare Alla riga 9 Viene Eliminata Non viene eseguita Per questa iterazione Verrà eseguita Ovviamente solamente Al dato successivo Invece Per quanto riguarda L'input del dato successivo È assolutamente indifferente Io nella prima versione Avevo messo Dentro Il blocco try E anche un altro input Dentro il blocco except A questo punto Sono equivalenti Posso metterne anche solo uno Successivamente Dopo il blocco try except Questo blocco try except È una sorta di if Però è un if Posticipato Nell'if Come prima cosa Devo dire Qual è la condizione Nel try Invece la condizione La scopo più avanti Se si verifica un errore Quindi una sorta di Di blocco if Qua sotto Che viene eseguito Oppure no Alla fine di tutto Questo blocco Chiaramente Le due Due percorsi di esecuzione Quello in cui Si è andato tutto bene O quello in cui Invece Si è stata un'eccezione Vengono Si riuniscono E chiaramente L'esecuzione prosegue Con le stesse istruzioni In entrambi i casi Quindi ha senso La input Farla separatamente Nel caso except Se io voglio Magari modificare Il messaggio Quindi fare una input Di tipo leggermente diverso Altrimenti va benissimo Questa messa così Mentre invece L'append Devo essere sicuro Di farla Solo se la int Non è fallita E quindi sono ancora Dentro al blocco try È un modo Un po' diverso Di ragionare Però per la gestione Dell'errore Diciamo così È più semplice Ragionare così Che non cercare Di anticipare La conversione Dell'errore stesso E questo Si applica A tutti i tipi Di eccezioni Qui abbiamo Qui abbiamo Un esempio Di codice In cui si cerca Di gestire L'errore Di apertura Di un file Quindi abbiamo Un programma Che cerca Di aprire Un file Qua E poi Leggere il contenuto Del file E convertire Il contenuto Del file In intero Ad esempio Qui ci sono Varie istruzioni Quella in blue Che è la open Quella in verde Che è la int Che possono generare Eccezioni Ma eccezioni Di tipo diverso E infatti Quello che possiamo fare È avere Una serie Di blocchi Except In cascata Uno all'altro Quindi lo stesso Blocco try Può anche avere Più blocchi Except Non solamente uno Chiaramente Associati A tipi di error Errori diversi Io devo sapere Quali sono i tipi Di errori Che si possono Verificare Ma per saperlo Me ne accorgo Basta far girare Il programma Con un errore E mi stampa subito Qual è il tipo E quindi io posso Sapere che Open Può generare Un'eccezione Qui la chiama Io error Vediamo un attimo Perché Perché non si chiama Perché non ho scritto File not found error E nel caso In cui si verifichi Esegue Quest'istruzione Attenzione Non ho trovato Il file La stessa cosa L'int Che Può generare Nel caso in cui Si verificasse Un errore Su questa riga Arriva A eseguire Quest'altra istruzione Quindi qua Ci sono due Dettagli Uno è Questa clausola Come mi dice Marco Nella chat Cosa vuol dire As exception Allora Se si usa Questa clausola As Questa parolina chiave As Mi permette Di creare Di avere Una variabile In questo caso È stata chiamata Exception La posso chiamare Come voglio Questa variabile Qua Che contiene Il messaggio Di errore Contiene Un oggetto Eccezione Che al suo interno Ha Un messaggio Di errore E quindi Io posso Qua Ad esempio Convertendo L'eccezione In stringa Stampare Esattamente Il messaggio Di errore Che avrebbe Stampato Python Se il programma Si fosse interrotto A causa Dell'errore Stesso Quindi Se lo vogliamo Vedere Il nostro Esempio Qui Qua abbiamo scritto Exit value error As Quindi Accept value error A meno che si verifichi Un'eccezione Tipo value error E questa eccezione La chiamo Errore L'abbiamo in italiano Quelli ci ricordiamo Che è una parola Che abbiamo inserito noi Allora Posso vedere Print Che Il messaggio Di errore Effettivo Era E posso stampare Str di errore Quindi in questo caso Posso recuperare Da questo oggetto Errore Convertendo In stringa Posso recuperare La Il messaggio Effetti Quindi 3 4 5 Dice Messaggio Di errore Quindi il valore TT Non è un numero Correttamente Formattato Questo lo sappiamo Già Messaggio Di errore Inver Literal Forint With Base 10 Quindi in questo caso Posso recuperare Questo messaggio Se mi serve Per stamparlo Per analizzarlo Eccetera In realtà Questo oggetto Errore qua È un oggetto Complesso Che ha tutta una serie Di altre informazioni Non solamente Il messaggio Di errore Stesso Quindi posso Non solamente Sapere Che c'è stata Un'eccezione Ma anche Altre informazioni Su questa eccezione Stessa Ok Ogni altro Tipo di eccezione Che non sia Un error O non sia Un value error Non viene Gestita Da questi blocchi Except E quindi Terminerà il programma Quindi tutte le Continua a valere la regola Che un'eccezione Se si verifica Un'eccezione Il programma Termina La regola L'abbiamo modificata Dicendo Se si verifica Un'eccezione Non gestita Da un blocco Except Il programma Termina Qui Su questa slide Spiega ciò Che abbiamo Appena commentato Prima Sul fatto Di avere Una clausola S Per ottenere Una variabile Che contiene Questo oggetto Eccezione Di cui L'uso Più frequente Quello proprio Di convertirlo In stringa Per vedere Quale fosse Il messaggio Ok Qui sto Saltando Una serie Di dettagli Su che cosa C'è dentro Questo oggetto Eccezione Ma anche perché Non vogliamo Implagarci Troppo In questa cosa Il suggerimento Per l'uso Per l'uso Di queste Eccezioni Noi ci interessa Più la parte Di gestione E quindi Cerchiamo Di fare Un po' Come abbiamo Generalizzato Un pochino Come abbiamo Fatto Nel nostro Esempio Non abbiamo Non abbiamo Messo Nel blocco Trai Solamente L'istruzione Int Ma anche Una serie Di istruzioni Che dipendevano Dal buon successo Di quell'istruzione Quindi in qualche modo Cerco di ritardare La gestione Dell'eccezione In modo da Bloccare L'esecuzione Del programma In automatico Senza 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 Fatica Ma questo Lo vediamo Meglio Secondo me Con delle Con degli Esempi Ecco Ci sono Un'altra Serie Di Informazioni Che qui Sulle slide Avevo Marcate Come Argomento Avanzato Lo vedete Qua Nell'angolino Su cui Non vorrei Soffermarmi Troppo Ci sono Perché Chiaramente La La Spiegazione Che abbiamo Dato Il try Except È molto Semplificata In realtà L'istruzione Il blocco Try Except Ha anche Un altro Tipo di Clausula Che si chiama Finally Che Ha la differenza Che viene Eseguita Sempre Sia Che Ci sia Stato Un errore Sia Che Non Ci sia Stato Un errore E Quindi Può Essere Utilizzata Se vogliamo Per Chiudere File O liberare Del risorso Dele strutture Dati Che va Fatto Comunque Quindi Dice Anche se Ci fosse Stata Un'eccezione Comunque Questa operazione Qua la devi fare Comunque Però è abbastanza simile Al fare questa stessa istruzione Fuori Fuori Dalla gestione Dell'eccezione Stessa Quindi viene Sempre eseguito Anche se Nel blocco Try È stata Sollevata Un'eccezione In precedenza Però Come vi dicevo Non complichiamoci Troppo la vita E quindi Anche qua Queste due slide Vanno a analizzare Cosa capita Se io metto Sia Try Che Accept Che Finally Nello stesso blocco Le cose si complicano Ma Non Andiamo A complicarcele Noi Così come Vi accenno solamente Qual è l'argomento Però come vi dicevo Non è richiesto Quindi non è richiesto Per i programmi Che facciamo Quindi Non voglio Non voglio Dedicarci troppo tempo È l'operazione inversa Cioè quando In una mia funzione Voglio sollevare Un'eccezione No In questo caso Uso Un'istruzione di questo genere Raise Tipo dell'eccezione Messaggio Ad associare All'eccezione stessa Questo Crea un'eccezione Che Automaticamente Farebbe interrompere Il programma A meno che Questa istruzione Qui raise Non sia dentro Un blocco try Che la va a gestire E questo blocco try Potrebbe forse Essere dentro La stessa funzione Ma molto Molto più probabilmente Questo blocco try È in una parte Di programma diversa Che chiama Questa funzione In cui verifico Che L'operazione di prelievo Non può andare A buon fine Perché L'ammontare Che voglio prelevare È maggiore Del saldo Che ho sul conto Quindi chiaramente Questa funzione Non potrà Procedere Al prelievo Vi dicevo La volta Quando abbiamo visto L'esempio Che usavo Un nome di eccezione Strano Che era IO error Che è riportato qua Di tipi di eccezioni Ce ne sono Moltissimi Questi tipi di eccezioni Sono collegati Tra di loro In un albero Gerarchico Quindi esiste Un tipo di eccezione Più generico Exception Che vale per tutto Poi Questa eccezione Potrebbe essere Un errore E questo errore Può essere Di tipo Type error Value error Ecco value error Lo conosciamo L'abbiamo ritrovato qua Potrebbe essere Un errore Un index error L'index error In realtà È un errore Molto simile A un key error Nel senso che L'index error Si verifica Nelle liste E il key error Si verifica Nei dizionari Ma entrambi Sono errori Di ricerca Cioè A cercare di accedere Un elemento Con la chiave Sbagliata Con l'indice Sbagliato Allora Se io Nel mio programma Volessi Catturare L'index error Posso usare Questa Questo tipo Di eccezione Oppure Posso scrivere Accept Lookup error E Questo andrà A catturare Sia l'eccezione Di tipo Index error Sia l'eccezione Di tipo Key error Entrambe Quindi è possibile Nella parola chiave Accept Catturare Un'eccezione Specifica Oppure Un'eccezione Generica E a questo punto Catturare Tutte le eccezioni Specifiche Di quel tipo Ad esempio Abbiamo degli errori Zero division error Che sono Identificati qua sotto Che fanno parte Di errori Aritmetici Quindi nel caso In cui Io vogessi catturare Zero division error Except Andrà a catturare Solamente Il fatto D'origine per zero Oppure Potrei catturare Aritmetic error Che a sua volta Catturerà Sia la zero division error Sia Overflow error IO error È messa qua Che è un tipo Di eccezioni Che vengono Diciamo così Associate Alle operazioni IO Input output IO error Sta per Input output error E quindi Tutte le tipologie Di errori Dovuti a Problematiche Di input output Ricadono Diciamo così Dentro Sono figlie Di questa Ecczione Adesso qua Non le vediamo Perché questa figura Fa vedere solamente I primi livelli Ma se prendo Una figura Più Completa Che ho provato A fare Andando a prendere Le varie Diciamo così Documentazioni Vedo che Qui avrò File not found error File exist Error Connection error Blocking Put output error Not directory error Permission error Eccetera eccetera Ad esempio Se io cerco Di aprire un file Può darsi Che il file Non ci sia File not found Ma può darsi Che magari Il file esiste Ma io non ho i permessi Per poterlo leggere Per poterlo aprire Allora in questo caso Avrò non un file not found error Bensì un permission error E così via Quindi O io conosco Esattamente Il tipo di errore Che viene generato Oppure è possibile usare Qui parla di OS error Che vuol dire Errore a livello Sistema operativo Anziché IO error Che vuol dire Genericamente Errore di tipo Input output Ma se io andassi A prendere Questa pagina Che viene linkata Nella slide Mi fa vedere Tutte le varie Eccezioni Che si possono verificare Ad esempio Value error E' figlio di Exception Genericamente Zero division error E' figlio di Arithmetic error Che è figlio a sua volta Di exception Il mio file not found error Eccolo qua E' figlio di un OS error Che nelle versioni Più recenti di python Ha sostituito L'io error L'input output error Quindi in questo caso Il consiglio è di usare IO error Oppure OS error Anziché andare a catturare Direttamente il file not found error Perché alla fine Sono tutti errori Della stessa tipologia Quindi io posso In pratica Andare a vedere Quale eccezione Viene generata Quando faccio L'istruzione Che non devo fare Prima ricordate Abbiamo provato A fare open Di un file Che non esisteva Forse ce l'ho ancora Qua nella console Esatto Un file inesistente Ho provato a fare open E ho visto che mi ha dato Un file not found error Quindi se voglio evitare Questo errore Posso direttamente catturare Questo file not found error Oppure se voglio catturare Questa anomalia O altre simili Posso andare Nella gerarchia E vedere che Il file not found error È simile ad altre Errori Dello stesso tipo E quindi vado a catturare In qualche modo L'errore L'eccezione A livello superiore Ma questo se vogliamo Diciamo così Sono finezze Che non sempre Non sempre ci servono Ok Quindi è una serie Molto ampia Di eccezioni E E dobbiamo scegliere Quella opportuna Così come anche Quando generiamo Un'eccezione E torniamo un attimo Sulla raise Che è l'altra metà Immaginiamo Giusto per capire Come funzionano Tutte queste cose Messe insieme Ok Immaginiamo di avere Un programma Adesso ne faccio Faccio un secondo Secondo file Ok Lettura Dati Lo chiamo positivi Ok Voglio provare A fare un programma In cui leggo Valori positivi Da tastiera Allora Io potrei avere Una funzione Che legge Un numero positivo E di base La funzione Che cosa farà Beh Farà Un input Sotto forma Di stringa Quindi s Uguali input Numero E poi Farò Un Il numero N Sarà La versione Intera Di s Return N E questo Verrà messo In un programma Principale Diciamo Main Che genererà Una lista Di valori Qui copio Un po' Da quello Che abbiamo Appena fatto E Supponiamo Di avere N leggere 10 Fuori In Range 10 No facciamo N 5 Scusate Quelli facciamo Prima Valori Punto Append Leggi Positivo E print Valori Qui Non abbiamo Gestito Nessun Nessuna Eccezione Nessun Errore Quindi se io Provassi a eseguire Questo programma Lui funziona Se inserisco Le cose Correttamente Ah Scusate Devo chiamare Il main Mi dimentico Sempre Funziona Correttamente Numero 3 4 5 6 7 E mi stampa Questi 5 valori Molto semplici Però ovviamente Noi sappiamo Che se provassi a inserire Un valore non valido Il programma Si blocca Allora Cosa possiamo fare Beh possiamo Abbiamo visto Gestire Questa Eccezione Di lettura Quindi Lo sappiamo fare Facciamo un try Except value error E Se per caso Ho qualche problema Stamperò Che ne so Valore non valido E dovrò tornare A ripetere Questa input Quindi in realtà Tutto questo Va messo In un ciclo while Per permettere Di ripetere L'inserimento Del numero Quindi Ho un ciclo while While Diciamo così Not Ok Ci mettiamo un flag Ok Uguale false Ok Quindi E poi Ok Ok Uguale true Quindi Cosa sto facendo Sto creando Una funzione Che al suo interno Abbia il ciclo di lettura No Di ripetuta Per cui L'istruzione chiave È questa Input E int Quest'istruzione Se tutto va bene Viene eseguita una volta E poi esco dal programma E poi Ritorno alla funzione E faccio il ritorno Del valore di n Se invece ci sono dei problemi Nella int Essenzialmente Allora Questo codice Viene interrotto Salta la gestione Dell'errore Che stampa Valore non valido Torna al ciclo while Dove questa variabile Flag Ok Che ho iniziato Dato falso Rimarrà sempre falso Quindi not ok È vero Non siamo a posto Non possiamo uscire Non abbiamo il valore E quindi Continuiamo A ciclare in questo ciclo while Quindi questo qua Il ciclo while viene ripetuto Tante volte Fino a quando Finalmente non riuscirò A mettere ok A true A vero E Ok E questo valore vero Fa sì che io possa uscire Dal ciclo while Quindi se tutto va bene Io eseguo l'input Faccio l'int L'int non dà errore Metto ok a true E quindi Questa condizione Diventa subito falsa E Esco dal return Purtroppo la gestione D'errore funziona così Quello che prima Erano due istruzioni Adesso diventano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Purtroppo è così Andare a gestire le cose Fin qua abbiamo gestito Vediamo se funziona La parte Inserire correttamente Dei numeri Quindi se inserisco Qualche cosa che non va Mi dice valore non valido E non esce Fino a quando Io non esco un valore valido E fino a quando Nel ciclo main Nella funzione main Ne devo inserire Almeno 5 Ok Poi ho l'altro Problema Quindi io so che ho Un valore valido Se esco da questo ciclo while Ho un valore valido Ma potrebbe essere positivo O negativo Allora cosa capita Se questo valore fosse negativo Io non posso Ritornare N Ma potrei Questo è chiaramente Un esempio un po' forzato Per vedere La La gestione delle eccezioni E la generazione Di eccezioni nostre Scusate Vedete un messaggio Di Shirley Nella chat Che mi dice Fussurrebbe anche Inizializzando ok a true E ripetere why su ok E far diventare ok Forse non accept Sì Funzionerebbe sicuramente Anche così Non la chiamerei però ok Questa variabile Ok Perché mi fa venire in mente Che il dato è valido Quindi la chiamerei magari Errore Oppure non valido Semplicemente per chiarezza Però sicuramente basterebbe Mettere true qui Togliere questo note E forse qua Funziona esattamente Nel stesso modo Ok Allora Cosa succederebbe Se invece Mi accorgessi Che n Fosse minore di 0 O minore uguale a 0 Perché i numeri Devono essere positivi Cosa posso fare? Allora Magari Questo programma Ha una logica Per cui i numeri negativi Devono essere trattati In un modo diverso Non mi basta Richiedere il valore Allora Io potrei Dire Che questa funzione Leggi positivo Se Innanzitutto Leggi un numero Se questo numero È positivo Restituisce il numero Altrimenti Genera un errore Che poi dovrà essere Trattato in qualche modo Dal programma Chiamante Io non voglio ritornare Se l'utente inserisce Meno 3 Non voglio ritornare Meno 3 Perché poi il chiamante Magari non se ne accorge E questo meno 3 Lo appende Alla lista No Io voglio che lui In qualche modo Lo gestisca a parte Questo numero Magari che ne so Ne salve il valore assoluto Farà qualche cosa Ma è una logica Che compete Che conosce solamente Il programma principale Perché io come funzioncina Il mio compito Cerco di farlo Ma non so come Io so Provavo a dirlo in questo modo Io so rilevare Che c'è un problema Ma non lo so correggere E allora In qualche modo Dico al mio chiamante In questo caso Nel mezzo Dico Senti C'è stato un problema Vedi tu se lo sai correggere Io non so correggere Ma mi sono accorto Che c'è Allora proprio per questo Esiste la funzione Raise Che Mi permette Di Generare Una nuova eccezione Così come se Fosse Una Int fallita O una divisione Per zero Posso scegliere Quale Tutte le eccezioni Che voglio Quale Ha più senso Quindi probabilmente A sua volta Può essere Un'altra eccezione Tipo value error Perché di altre Non me ne sembra No Potrebbe Un'arithmetica error Non so se usarlo Scelgo una delle eccezioni Che diciamo così Rappresenta Ciò che è successo Ok Quindi Usiamo di nuovo Un value error Qua E componiamo Un messaggio Di spiegazione In questo caso Diciamo Che il valore Il valore N Non è positivo Ok Allora Che cosa succede In questo caso Allora Io so che Se inserisco Un valore Non numerico Rimango bloccato In questo ciclo While Se inserisco Un valore numerico Positivo Esco da questo Return Se inserisco Un valore numerico Negativo Allora Il programma Si blocca Per un errore Allora Ricordate che molte volte Nell'esercizio che facevamo A un certo punto Mettevamo Exit Se trovo un errore Che non so gestire Exit Cioè interrompo Il programma Il programma di brutto E con il modo Molto migliore Di fare la stessa cosa È fare un raise Segnalo che c'è un errore E in effetti Cosa capita Che se Se io inserisco 3 Lo so FF Non lo fa ripetere Ma se inserisco Meno 2 Il programma Si blocca Si blocca Con un value error Quindi in questo caso Ho trovato Una condizione Che non mi permette Di continuare Questa funzione Non può fare Il suo lavoro E allora Interrompe il programma Ma non lo interrompe In modo definitivo Se io faccio Exit Il programma si interrompe Punto e basta Lo interrompe In modo gestibile Per cui Se il programma principale Main Non gestisce l'eccezione Così come Non la sta gestendo adesso Allora il programma Si interrompe Ma se il programma principale Ha un modo Di gestire Questa condizione Allora Lo può fare Sapendo che Questa funzione Leggi positivo Può generare Un'eccezione E allora La gestisce Dice Ok io so che Tu puoi generare Un value error Allora Voglio gestirlo E per gestirlo Chiaramente ti metto In un blocco try Catturo L'eccezione value error Vedete che questo value error Qui deve essere Che sto catturando Deve essere lo stesso Che ho generato E A questo punto Posso fare Ciò che voglio Non so Ad esempio Una cosa stupida Aggiungiamo Il valore assoluto Allora Qui però Per inserire il valore assoluto Devo No non so Perché la legge positiva Non mi ha restituito Nessun valore Beh Mettiamo Ci metto uno zero Non posso Subito pensavo Ci metto il valore assoluto Ma in realtà Non posso Perché Se esco da questa raise Non ho restituito Nessun valore di n Quindi non c'è Nessun valore di ritorno Che posso usare Per come ho fatto Il codice in questo modo Quindi Quando l'utente Inserisce un valore negativo Anziché bloccare il programma Il mio main Decide In silenzio Di sostituirlo Con uno zero Allora In questo caso Come funziona Se io Inserisco tre Quattro Meno due Meno tre Sappiamo che il Meno due Meno tre Avrebbe fatto bloccare Il programma Per via di questa raise Ma questa raise È stata catturata Dall'except Del chiamante E ha Il quale chiamante Ha inventato Un modo di correggere Questo errore Ok Quindi questo È un pochino Il meccanismo Se io Possiamo provare Abituarci A far così Nel senso che Quando c'è un errore Non recuperabile Non recuperabile Anziché exit Possiamo scrivere raise Poi non siamo obbligati A gestirlo Però è una condizione Che in automatico Fa interrompere il programma Ma volendo Può essere gestita E quindi può permettere Al programma di continuare Damiano mi chiede Ma possiamo usare Altre cose Che non siano Quelle predefinite La risposta è Sì Dovresti fare In realtà Queste exception È una classe Parla di gerarchia Delle classi E dovresti fare Una sottoclasse Di exception Ok Noi non studiamo Le classi E quindi in realtà Questo Non ve lo posso Spiegare In realtà Sarebbero semplicemente Due righe Basta scrivere Class Il tuo nome Di errore E poi Tapparentage exception E poi usarla Però Non complichiamoci La vita Ok La risposta Se vuoi approfondire Puoi fare Una sottoclasse Di exception E usare quella Nel raise Nunzio Mi chiede Se può fare Una cosa di questo genere Vediamo un attimo Raise value error Sì Lui ha fatto Un raise E un accept Nella stessa Mettiamolo Fatemi aprire Una Semplicemente Ecco Questo è ciò Che ci propone Un unzio In cui Fa un raise Di un'eccezione E la E la cattura All'interno Della stessa funzione Sì Si può fare In realtà L'unica cosa Sintaticamente Qua ci vogliono Delle parentesi Possibilmente Con un messaggio Ma se non hai bisogno Di mettere nessun messaggio Puoi anche non metterlo Ma le parentesi Ci devono essere Ok Perché stai creando Un nuovo oggetto Stai chiamando Questa funzione Value error Per creare Una nuova eccezione Quindi Ci vogliono Queste parentesi Questo tipo Di cose Non In realtà Non vale Tanto la pena Nel senso Che vi fare Un raise qua E un except qua Ma me lo gestisco Tranquillamente Con un flag Con una breve Booleana Non ho bisogno Di Allare questo meccanismo Il meccanismo Del raise except È molto utile Quando il raise Avviene in una funzione E l'except Avviene in una funzione Completamente diversa Ma se sono all'interno La stessa funzione A poche righe di distanza Probabilmente Mi basterà Una variabile logica Del tipo Errore Si no Valido Si no Vero falso E andare a testare Con una if Questo Andrea mi chiede Nel mio esempio Come faccio a cadere In questo caso N negativo E quando Io ho un numero Negativo Viene correttamente Convertito Da int Non ha problemi Se io provo a fare Nella console Int Di una stringa Che contiene Meno 5 Funziona correttamente Int Mi converte Qualunque numero Intero Quindi positivo O negativo E quindi anche I numeri negativi Int Da errore Solamente Se ciò che sto rappresentando Non è un numero Se io provassi a fare 5 meno Per dire Non va bene Non mi genera Un errore Però Meno 5 Che è un numero Precisamente Devalido Non genera Nessun errore Qua Ma ovviamente Poi Lo devo validare Io separatamente Damiano Che cosa serve Il messaggio di errore Nel raise Se non viene stampato Quando io Genero Un'eccezione Non so Chi userà Questo messaggio Questo messaggio Chi catturerà Questo eccezione Allora Nel caso in cui In questo caso In cui Questa Eccezione Viene Catturata La riga Ventilità Del main Quel messaggio Viene perso Non viene stampato Non viene usato Però Se io questa funzione La chiamassi In un altro punto In cui Non c'è L'except Non c'è Il try Accept Allora Quel messaggio Mi viene stampato Dal programma Oppure Magari Lo chiamerei Da un main Diverso Da una funzione Diversa Che usa Quel messaggio Per stamparlo Per postare L'utente Che ne sono In una finestra D'errore Eccetera Quindi La logica È che Io quando Genero un errore Sono dentro Una funzione Io devo passare L'informazione Non è che c'è stato Qualcosa Che non andava Compreso Magari L'informazione A proposito Di che cosa È andato male Poi Dipenderà Da chi gestisce L'errore Se gli interessa O non interessa Usare il messaggio O non usarlo Ma io quando scrivo La funzione Non so Devo mettermi Nella 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 forma mentale Di non sapere Come verrà gestito Questo errore Perché altrimenti Avrei la tentazione Di gestirmelo qui Cioè io qua Avrei potuto scrivere If n Minore di zero Return zero Mi gestisco io Già con questa logica Invece qua Stiamo cercando Proprio di separare Le funzioni E dare Ogni funzione La sua Logica Essenzialmente Quindi questo è il motivo Per cui Io genero un'eccezione Cercando di dare Tutta l'informazione E poi sarà Chi la gestisce Che decide Se questa informazione La usa Oppure no Allora Questa 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 costrutta Lo usiamo Essenzialmente Lo useremo In due contesti O quando Convertiamo i valori Float o int Oppure quando Apriamo i file Open In lettura In scrittura Nel resto Dei casi Diciamo così Non è Come vi dicevo Per il tipo di programmi Che facciamo noi Dover generare Un errore In una funzione E catturarlo dall'altra È una cosa che Non è richiesta Noi non vi chiederemo Esplicitamente Chiaramente se lo volete fare bene Ma non è poi critico Mi chiede Rebecca Come faccio a stampare Il messaggio nel main Basta che io aggiunga Qua Un'eccezione Così As exception E quindi potrei stampare Qua il messaggio Str Di exception Ok Però in questo caso Poiché Quindi Catturo l'eccezione In un oggetto Che ho chiamato X in questo caso E se lo converto in stringa Vedo Il messaggio Che era stato mandato Dall'altra funzione Però in questo caso Non lo stamperei Questo messaggio Proprio perché Ormai l'eccezione L'ho gestita E quindi non voglio Che il messaggio Venga stampato Ok Quindi se la gestisco Normalmente quel messaggio Se la gestisco Nel senso di correggerla Quel messaggio Me lo Lo ignoro Se invece Non lo gestisco Però chiaramente Dipende dai casi Tecnicamente Semplicemente basta Ricatturare L'eccezione Dentro questa variabile Ok Quindi questo era Appunto Un argomento Che ci era rimasto In sospeso E finalmente Riusciamo Con questo trucco Diciamo così A gestire gli errori Di acquisizione Che Che già Dalle prime Settimane Era uno dei problemi Leggo dei dati A tastiera Se per l'utente Inserisce qualcosa Di sbagliato L'open Non esiste Il file Formato errato Eccetera Adesso abbiamo Questo meccanismo Appunto Di usare Una serie Di except Per andare a catturare Le varie condizioni Anomale Nell'apertura Del file Eccetera Eccetera Ma qui Non Quasi sempre Sarà l'input output error Oppure os error Che nella versione Più recente Viene chiamata così Oppure value error Che sono i due tipi Di errori Che nel tipo Di programmi Che faremo noi Ci dovremo Ci troveremo A gestire Più frequentemente Anche perché Sono i due errori Che se ci pensiamo Non possiamo Prevedere Facciamo un altro esempio Di un'altra Eccezione Index error Che è qua Index error Mi dice Se io ho cercato Di accedere A una lista Al di fuori Della sua lunghezza Io questo qua Però lo posso Verificare facilmente Basta che controlli Che l'indice Sia minore Della length Di quella lista Se non lo controllo Lo posso controllare Prima Molto più facilmente Che non facendo Un try except If i minore Di length Lista Allora lo faccio Altrimenti no Perché so che Genererei sicuramente Un index error Quindi sono Eccezioni un po' Così Che non devono Verificarsi Normalmente Un programma Non deve mai Generare queste eccezioni Non ha senso Catturare un'incezione Di tipo index error Il programma Non lo deve mai Generare l'index error Quindi se rimane Un index error nel programma Vuol dire che c'è un baco C'è un problema C'è un errore C'è un errore di programmazione Lo devo correggere Quindi queste sono eccezioni Che normalmente Non vengono mai gestite Servono per interrompere Il programma E farci capire Che abbiamo Un baco Da qualche parte Mentre invece Tutte le operazioni Legate all'input output E Compreso anche Il value error Perché per noi Questo value error Arriva da un input Dell'utente Allora Allora queste Sono imprevedibili Io Non so Non so Se si verifica L'errore Fino a quando Non proverò Ad aprire quel file O fino a quando Non proverò A leggere quel numero E quindi Ha senso gestirle In questo modo Per questo sono le due Diciamo così Che per questo tipo di programma Ci interessano Maggiormente Ok Questo era un po' L'argomento Che ci era rimasto in sospeso Dal capitolo Vecchio Diciamo così Dei file E quindi da questo momento in avanti Intorno ad ogni open E intorno ad ogni int Sappiamo come fare Per poter gestire Questi tipi di errori Ecco voglio usare Se non ci sono altre domande Su questo tema Vorrei invece usare I 20 minuti Che ci rimangono Circa Per iniziare a introdurre Il primo Degli argomenti Del capitolo successivo Dove impareremo Delle strutture dati Nuove E quindi L'utilizzo di queste strutture dati Diciamo così Anche un pochino più Evoluto rispetto Semplicemente alle liste Quindi Le due strutture dati Che impareremo Sono insiemi Edizionari Oggi cominciamo Guardare gli insiemi Che tutto sommato Sono semplici E la settimana prossima Vedremo i dizionari E i modi di combinare In strutture più complesse Le strutture che conosciamo Che sono la lista A questo punto L'insieme edizionario E la tupla ovviamente Allora che cosa è un insieme Un insieme Io qui ho provato A scrivere la definizione Ma come sempre Tutte queste definizioni Non si capiscono Sono contenitori mutabili Non ordinati Di elementi univoci Immutabili Adesso cerchiamo Di spiegarlo Chiaramente Queste sono però Le caratteristiche Di un insieme Un insieme È un contenitore Un contenitore Come potrebbe essere Un contenitore Una lista Ok Come potrebbe essere Un contenitore Una tupla Quindi Un unico oggetto Che contiene al suo interno Altri oggetti La caratteristica particolare Di un insieme Che se vogliamo Ce lo ricordiamo Dal concetto matematico Di insieme È che i valori Contenuti dentro Un insieme Devono essere univoci Cioè in un insieme Non ci può essere Due volte lo stesso valore Sia che siano Numeri Sia che siano Insiemi di string So che un insieme Non potrà mai Contenere dei duplicati Quindi Quando mi serve Costruire una struttura Dati Che per costruzione Non contenga Degli elementi duplicati Posso usare Un insieme Per memorizzare Anziché una lista Perché in una lista Invece i duplicati Ci possono esistere Possono esserci Ok Un insieme Ha anche un'altra Caratteristica Che a differenza Di una lista Dove gli elementi Sono ordinati 0, 1, 2, 3 Ciascuno del suo indice All'interno Di un insieme Gli elementi Non sono ordinati Non hanno alcun ordine Quindi non ha senso Parlare del primo Del secondo Del terzo elemento Non posso accedere Per posizione Agli elementi Di un insieme Ma ovviamente Ci potrò iterare Adesso vediamo Come fare E le operazioni Che posso fare Su un oggetto Tipo insieme Sono le stesse Che ci aspettiamo Per un insieme Quindi unione Intersezione Controllo Di sotto insieme Di contenimento E cose di questo genere Io potrei Emulare Il fatto Di avere Un contenitore Che contiene Elementi univoci Usando una lista Ad esempio Perché se io voglio Evitare di avere Dei duplicati All'interno Di una lista Prima di fare Appende Potrei controllare Se l'elemento C'è già Però farei Del lavoro In più Perché ogni volta Devo andare a cercare Se c'è un elemento Oppure no Un insieme È una struttura datica Ottimizzata Per gestire Elementi Unici E quindi Mi evitano Di dover Fare io I controlli Io Come programmatore I controlli Di eventuali duplicati E soprattutto Mi dà delle operazioni Molto veloci In questo caso Allora Come si costruiscono Degli insiemi Qui il concetto Generale Pensiamo di avere Delle varie Bandiere E vogliamo costruire Degli insiemi Che rappresentano I colori Il o i colori Presenti All'interno Di queste bandiere Allora È giusto Rappresentarlo Come un insieme Perché L'ordine dei colori Non è importante Non è definito Nel senso Che la bandiera Della UK Ha tre colori Il bianco Il rosso E il blu Però se io dicesse Che ha il rosso Il bianco Il blu È in realtà La stessa bandiera Quindi Le definisco come insieme O questi tre colori Rosso Blu e bianco Non importa L'ordine In cui ci sono E non avrebbe senso Mettere due volte Il rosso Il colore rosso C'è O non c'è Quindi Questo è il classico Esempio In cui ha senso Rappresentare L'insieme di colori Appunto Come un insieme matematico E in Python Come si scrive Beh in Python Si può costruire Un insieme Con le parentesi graffe Allora noi sappiamo già Che se io metto Delle parentesi quadre Sto costruendo una lista Se metto Delle parentesi tonde Sto costruendo una tupla E adesso scopriamo Che se metto Le parentesi graffe Sto costruendo un insieme In questo caso Un insieme di stringhe Un insieme di tre elementi String a blu String a red String a white Un insieme di due elementi String a red String a white E così via E le salvo Facciamo così come Un unico oggetto Che contiene Questi tre valori Quindi creare Gli insiemi Si possono creare Gli insiemi Di cui il contenuto Sia costante Sia nuoto Sia costante Usando questa sintassi Qua con le parentesi Graffe Lo possiamo fare Anche direttamente Noi Nella nostra console Puliamo la console Così visto che abbiamo Chiamato argomento Io posso avere L'Italia La bandiera italiana Scriviamo anche in italiano Rosso Bianco Verde E quindi ho questo Insieme Che se provo a stamparlo Mi stampa Che è un insieme Composto da tre colori Ecco una cosa Curiosa È che Io ho inserito Adesso come lo fa vedere qua Dentro la variabile d'Italia Rosso Bianco Verde In quest'ordine E quando me lo stampa Me lo stampa Bianco Verde Rosso Dell'ordine che vuole lui Non è neanche L'ordine alfabetico È un ordine Non dico casuale Ma arbitrario Ok Un ordine su cui Io non ho controllo Proprio per ottimizzare Le operazioni Gli elementi di un insieme Gli elementi di un insieme Quando vengono inseriti In un insieme Perdono l'ordine Noi ce li visualizziamo così Come una serie di elementi Tutti all'interno Del loro diagramma di Venn Ma senza un ordine particolare È chiaro che quando lo stampo Me lo stamperà in qualche modo E quindi sceglierà un ordine Però non possiamo farci affidamento E sicuramente questo ordine Non sarà l'ordine con cui li ho inseriti Questo teniamocelo in mente Quando metto qualcosa in un insieme Non so più in che ordine Siano disposti gli elementi Ma se effettivamente È davvero un insieme Posso dire che non mi interessa In che ordine sia Un altro modo per costruire un insieme È quello di convertire una sequenza Quindi ad esempio Una sequenza può essere una lista Può essere una tupla Può essere un range Allora ad esempio Io ho una lista qui Con i nomi Quindi questi nomi Di questi tre attori Anzi personaggi del film Sotto forma di lista Allora io posso usare La funzione set Per costruire nuovi insieme I cui elementi Siano gli elementi Della lista E quindi è un altro modo Di costruire lo stesso insieme Però magari questi nomi qua Li ho già Li ho già nella lista E ciò che succede E ciò che succede Io posso avere una lista Che ne so Di numeri Fondiamo questa volta Una lista di numeri interi 3, 4, 5 3, 7, 8 4, 9 Per dire Quindi questa lista qua Viene stampata così Io posso avere Un insieme di numeri Costruire un insieme Con un set Che viene costruito Dai valori Che attualmente Sono presenti Dentro i numeri Che cosa succede? Che ho costruito Un insieme 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 In questo caso Sembrano ordinati In modo crescente Ma non facciamoci ingannare Non è detto che lo siano Non è detto che lo siano Ma l'altra cosa Che osservo È che nella lista C'era il 4 Che era duplicato Due volte E qui compare Una volta sola E forse basta Non avevo messo Altri valori duplicati Quindi quando costruiscono Insieme Ovviamente l'insieme Non può ospitare Dei duplicati Nel caso in cui ci fossero Dei duplicati Nell'insieme di valori Da cui lo sto costruendo Vengono automaticamente Eliminati Fabio mi chiede Può essere convertita In insieme Una lista di liste? Allora dipende Un po' Che cosa intendi Se intendi Tutti i valori Di una lista Che sono Diciamo così La lista di liste Mettete in una tabella Se intendi Tutti i valori di una tabella Mettete in un insieme Si può fare Ma non con un'istruzione sola Devo fare una riga per volta Quindi costruisco Un insieme Corrispondente Gli elementi La prima riga Un insieme Con gli elementi La seconda riga E poi faccio L'unione L'aggiunta Di questi due elementi Se invece Intendi avere un insieme I cui elementi Siano le liste Questo non si può fare E vediamo adesso perché Allora Visto che Un insieme Deve poter Essere ottimizzato Nelle sue operazioni Ci sono dei vincoli Sulla tipologia Di elementi Che posso memorizzare Un insieme Gli elementi Che devo memorizzare Un insieme Sono Devono avere Queste due caratteristiche Devono essere Immutabili E Comparabili Comparabili Nel senso Che Siano Si è definito L'operazione Di uguaglianza O diversità Tra i vari elementi Ok E Immutabili Nel senso Che devo essere sicuro Che un valore Una volta messo Un insieme Questo valore Non possa più Cambiare L'insieme È mutabile Cioè In un insieme Posso aggiungere Togli degli elementi A mio piacere Ma il valore Contenuto Nell'insieme Non può più Cambiare E quindi Non potrò mettere Un insieme Dei valori Che a loro volta Appunto Siano degli altri Contenitori A loro volta Quindi non posso Mettere una lista Dentro un insieme Non posso fare Un insieme Che contiene una lista Perché non ci sarebbe Nulla che mi vieterebbe A questa lista Di cambiare Di aggiungere A togliere elementi Tantomeno un file Ma non ci verrebbe Neanche in mente Mentre quindi Un insieme È limitato A poter accogliere Al suo interno Solamente Tipi base Numeri interi Numeri reali Stringhe Tuple Perché le tuple Sono immutabili Oppure oggetti Ma noi non sappiamo creare Oggetti sotto certe condizioni Se li creiamo In modo immutabili Quindi per noi Diciamo così Il messaggio semplificato È Quando crea un insieme Questo deve essere O un insieme di numeri O un insieme di stringhe O al limite Un insieme di tuple Anche se è una struttura Di scarsa utilità In realtà La regola generale È un pochino più complicata Chi vuole andarsela a vedere Ha questo link Dove va a vedere Esattamente La regola Si chiama Un hashable In questo caso Quindi Dei valori Che possono essere convertiti In un codice di hash Particolare Ma questo Questo concetto di hashing È un concetto Che chi farà il prossimo anno Il corso di algoritmi Capirà bene Per ora Usiamo questa regola Diciamo così Semplificata Un insieme Non può contenere liste Lo posso dire così Ma può Solo Ne altri insiemi Ma può contenere solamente Dati che a loro volta Siano immutabili Numeri e stringhe Per capirci E anche tuple Tra parentesi Anche tuple Perché Fatico a trovare Un esempio In cui sia utile Ok Un insieme vuoto C'è un'eccezione Una piccola eccezione Nel punto di vista Della sintassi Un insieme vuoto Non si può creare Facendo aperta e chiusa Graffa Così come una lista vuota Si potrebbe scrivere Facendo aperta e chiusa Quadra Perché la sintassi È riservata Per creare un dizionario Vuoto Quindi Se vogliamo creare Un insieme vuoto Dobbiamo usare La funzione set Senza nessun parametro Vabbè È un dettaglio Semplicemente Non sbagliamoci Essendo un contenitore Posso usare Leng Per conoscere Il numero di elementi La lunghezza D'un insieme È un concetto Un po' strano Noi siamo abituati A parlare di lunghezza Ma di numero di elementi D'un insieme Beh in questo caso Usiamo sempre La funzione Leng Per contare Il numero di elementi Possiamo usare L'operatore In Per vedere Per vedere se Un elemento È all'interno Di un insieme Oppure no E anzi Negli insiemi È molto efficiente Questa operazione Molto più che In una lista Usare l'operatore In per cercare Un elemento In una lista Significa che Devo andarmelo a cercare In tutte le posizioni Per cercare Un insieme Un'operazione Che invece avviene In tempo istantaneo In tempo costante Anche sull'insieme Di tantissimi elementi La complessità Il tempo Di esecuzione Dell'operatore In non dipende Dal numero di elementi Non cresce Con crescere Il numero di elementi Quindi In realtà È il vero motivo Per cui usiamo Questi insiemi Posso iterare Sugli elementi Ad esempio Con ciclo For For Elemento In Insieme Così come Itererei Su una lista Così come Itererei Su una tupla Quindi L'operazione Di iterazione Col for Si può fare Mi prende Un elemento Per volta Ovviamente L'ordine Con cui avviene Questo for Non è sotto Il mio controllo Nel senso che Lo sceglie Python L'ordine Con cui iterare Quindi so che Mi darà gli elementi Uno per volta Ma poiché Non esiste Un primo Un secondo Un terzo elemento L'ordine Con cui mi vengono Proposti Sarà qualche Sarà Non ci devo Dipendere Non devo Dipendere Da quell'ordine Se volessi Un ordine Specifico L'unica cosa Che posso fare È prenderlo Insieme Convertirlo In una lista E poi Ordinare La lista Allora Però Sono io Che decido Il criterio Di ordinamento Ma per Sua natura Un insieme Invece Ha un ordine Imprevedibile E come Conseguenza Quindi Anche se Io Posso iterare Sugli elementi Un insieme Non lo posso Fare Ad esempio Con un for Su un indice Come farei Su una lista Se cast Fosse una lista Anziché un insieme Io potrei Avrei L'alternativa Se usare Il for Sui valori O i for Sugli indici Ecco Nel caso Dei Degli insiemi Questo non si può fare Chiaramente Perché non è possibile Accedere a un singolo elemento Conoscendone l'indice Proprio perché Gli elementi Non hanno un indice Gli elementi Di un insieme Non hanno una posizione Non hanno un ordine E quindi non hanno Un indice numerico Questo l'abbiamo detto Alla nausea Il fatto che L'ordine Può cambiare Rispetto a quello Che abbiamo Quando lo aggiungiamo E quindi Anche l'ordine Di iterazione Può cambiare Possiamo La funzione Sorted Può essere applicata A un set Quindi se io Ho un insieme Posso calcolare Sorted Di set Quindi mi da Ordinati In modo Crescente Crescente come stringa Se i contenuti Sono stringhe O crescente come numeri Come valore numerico Se i contenuti Sono numeri Attenzione che Per lo sorted Mi costruisce una lista Non un insieme Quindi La funzione sorted In automatico Mi converte L'insieme in lista E ordina la lista E il risultato è Una lista E non più un insieme Quindi mi sto perdendo Ovviamente L'insieme rimane Ma ho costruito Un'altra lista Che ho ordinato Nell'insieme I valori Non vengono ordinati I valori dell'insieme Perché questo Non è possibile Ok Su questa struttura dati Cosa possiamo fare Beh Operazioni Tutte le operazioni Che ci possiamo aspettare No? Sull'insieme Cioè Aggiungere un elemento In questo caso Si usa add E non append Proprio perché Append Dà l'idea Di aggiungere In fondo In un insieme Non c'è Il fondo E quindi Ne aggiungo Uno in più Aggiungo Un elemento In più Quindi posso Costruire un insieme E il metodo Add Mi aggiunge Un elemento Rispondo A domanda D'Alexis Sort Per list E sort Per gli insiemi In realtà Io direi Che sort Sort è un metodo Dele liste Quindi può essere usato Solamente su una lista Sort è una funzione Che può essere applicata A qualunque contenitore Quindi sort Lo posso applicare A una lista A un insieme A una tupla A una stringa E funziona Restituendo ogni volta Una lista Costruisce una nuova lista Ordinando l'oggetto Che gli passo Mentre sort È un metodo Che funziona solo Su una lista Ok Dicevamo Metodo add Per aggiungere un elemento Per cancellare un elemento C'è un metodo Che si chiama Discard In questo caso Quindi a differenza Nelle liste dove avevamo Pop Che cancellava Per posizione Vi ricordate E remove Che cancellava Per valore In questo caso Si chiama Discard Anziché remove Così ci complica Un po' la vita E elimina un elemento Se c'era Se l'elemento Non c'era Non fa nulla Ok Quindi Se io voglio aggiungere Un elemento E questo elemento Non c'è Lo aggiunge Se l'elemento Che cerco di aggiungere C'era già Non fa nulla Perché ovviamente Non può creare un duplicato Non vuole creare un duplicato Se voglio cancellare un elemento Se questo elemento C'era Viene eliminato Se l'elemento Non c'era Invece Non succede nulla Ok Il set Rimane invariato Volendo C'è anche Remove Così come c'era Sulle liste Che elimina un elemento Ma genera un'eccezione Se l'elemento Non fa parte Dell'insieme Ok Quindi Dipende da noi Se Vogliamo eliminare Un elemento Nel momento in cui Siamo sicuri Che quello c'è Allora ci conviene Usare Remove Perché se per caso Non ci fosse Vuol dire che abbiamo Sbagliato qualcosa Nel programma E ci fa comodo Avere una bella eccezione Che ci fa vedere Che abbiamo sbagliato Se invece Cancelliamo un elemento Che potrebbe anche Non esserci Usiamo la Discard Anziché la Remove Clear A zero un insieme Così che C'era già sulle liste Quindi Mi porta a un insieme Di dimensione zero Vedete che questi Sono tutti i metodi Per modificare L'insieme I valori Che ci sono dentro Una volta che li ho inseriti Non li posso modificare Ma l'insieme Definito come Quali sono I valori che contiene Invece sì E poi ho tutte le altre Operazioni Definibili Sugli insiemi Ad esempio C'è un metodo Si chiama IsSubset Qui Li vedo un po' Velocemente Perché sono veramente banali Che mi dice Vero o falso Se un insieme È un certo insieme Di un altro Ho l'operatore Di uguaglianza Per cui Due insiemi Sono uguali Se e solo Se hanno Gli stessi elementi Altrimenti Sono diversi Ho l'operatore Di unione E quindi Ho un insieme Appunto Union Di un altro insieme Mi costruisce Un terzo insieme Che è l'unione Di due Oppure L'intersezione Intersection Quindi mi dà Un nuovo insieme Che contiene solo Gli elementi comuni Ai due insiemi dati Ho la differenza Quindi gli elementi Che fanno parte Di un insieme Ma non dell'altro Semplicemente Abbiamo dei nomi E qui c'è un po' Riepilogo Che corrispondono All'operazione Che ha senso fare Anche matematicamente Su un oggetto Insemistico E in più Esiste anche Se qualcuno Fosse Diciamo così Curioso Di farlo Esiste anche Una sintesi Semplificata Che usa Questi simboli Strani Come fossero Degli operatori Per cui Per controllare Se x1 È un sotto insieme Di x2 Posso anche Usare il minore o uguale Il minore o uguale Quando è usato Tra insiemi Assume il valore Di contenuto Il simbolo Di contenimento Degli insiemi L'unione Intersezione Si possono fare Con la sbarra verticale Or O con la e commerciale And In un certo senso Quindi Sono assolutamente Equivalenti Potete usare La notazione A metodo Prendo un insieme Appunto Nome di un metodo E tra parentesi Un altro insieme O altri insiemi Per fare queste operazioni Insimistiche di base Oppure Uno di questi operatori Che Sono sicuramente Più compatti Più brevi A volte Magari potrebbero Non essere così leggibili Perché ricordarsi Che cosa sia Cosa indichi Questo operatore qua Magari così A memoria non ci viene Mentre invece La differenza simmetrica È una cosa Così Più chiara da ricordare Semplicemente perché Ha lo stesso nome La differenza simmetrica Sono tutti gli elementi Che sono In un insieme Ma non nell'altro E viceversa Quindi è L'unione Meno l'intersezione Praticamente E sono tutte Diciamo così Le possiamo Scrivere In entrambi i modi Facciamo solo attenzione Appunto che Magari ci mettiamo Sempre un paio Di parentesi tonde Intorno Per non avere Ambiguità Tra il fatto Che questo minore uguale Sia tra l'insieme Oppure l'elemento Contenuto nell'insieme A parte questo Diciamo così Non ci sono Molte altre Nozioni Particolari Sugli insiemi Ricordiamocelo Tutte le volte Che Ci verrebbe in mente Di fare un'operazione Di questo genere Voglio aggiungere Un elemento A una lista Ma voglio evitare Duplicati E allora Controllo Se l'elemento Non è ancora Nella lista Allora aggiungilo Alla lista Ecco Tante volte L'abbiamo già fatto Questa operazione Anche negli esercizi precedenti Prima di aggiungere Controlla se c'è già Ecco Adesso abbiamo Uno strumento Che è l'insieme Col suo metodo add Che fa già questo E lo fa in modo Molto più efficiente Quindi se Abbiamo il problema Di evitare Duplicati Nella struttura dati Oppure prendere Una struttura dati E eliminare I duplicati Che contiene Allora Forse ci conviene Costruire un insieme E quindi È un comportamento Diciamo così Una funzionalità Abbastanza Fatemi dire Di nicchia Però può tornare utile Diciamo così Quando ci serve Ci evitiamo Una serie di controlli Sulle Sulle liste Come esempio Se volete cominciare A guardarlo Lo vediamo meglio La volta prossima Uno dei problemi Che avevamo Un pochino affrontato La volta scorsa Era Sull'analisi Sulle analisi Dei testi Facevamo Delle statistiche Sulle parole Che erano presenti Nel testo Eccetera Una domanda Che possiamo farci Su un testo È quante parole Diverse ci sono All'interno Di un testo Ecco questo è un esercizio Che usando un file E un insieme Si risolve Veramente in poche righe Poche righe Ma non abbiamo In pochi minuti Per poterlo vedere Quindi se volete Cominciare a dare un'occhiata Lo vediamo poi insieme La settimana prossima Mercoledì prossimo Dove finalmente Ci sarà una settimana Completa Col calendario Completo Delle lezioni Per oggi Vi ringrazio E vi saluto E arrivederci Alla settimana prossima Martedì collaboratorio E mercoledì giovedì Con le solite lezioni Grazie